Buongiorno a tutti. La conferenza stampa era stata prevista, come sapete, alla luce degli incontri di oggi, segnatamente dell'incontro con i comuni italiani. Ovviamente però mi permetterete di esprimere innanzitutto il senso del dolore profondo che a nome del Governo e mio voglio rivolgere con un sentimento di vicinanza alle famiglie delle vittime di Milano, alla città di Milano, alla magistratura e alla famiglia del giudice Ciampi, all'avvocatura e alla famiglia dell'avvocato Clari Sappiani, alle persone che stanno lottando in questo momento per la vita all'interno degli ospedali sotto i ferri dei medici. È dunque un giorno di dolore molto forte per tutti. È del tutto evidente che questo è il momento innanzitutto del cordoglio, ma dovrà essere fatta chiarezza su ciò che è accaduto e soprattutto su come sia possibile che si sia potuto introdurre un'arma all'interno di un tribunale. Non è la prima volta a dire il vero che questo accade, deve essere ovviamente l'ultima. Il Governo ha dato il mandato molto forte di fare la massima chiarezza sulle falle del sistema, che è evidente che ci sono state, perché è impensabile e impossibile che una persona possa entrare dentro un tribunale. Voglio allo stesso tempo esprimere la mia gratitudine a tutte le forze dell'ordine che hanno dato vita a un difficilissimo inseguimento, perché ciò che è accaduto dentro il tribunale e, ripeto, andrà chiarito nelle sedi opportune, capire perché il killer è potuto entrare dentro il tribunale e fare fuoco. Ma quello che è accaduto fuori è stato un atto di grandissimo eroismo da parte delle forze dell'ordine, in particolar modo dei carabinieri che hanno bloccato a V-mercate, hanno riconosciuto il killer, lo hanno disarmato, aveva ancora dei caricatori, quindi poteva essere ulteriormente in grado di fare del male. Tutto questo per dire che la mia gratitudine che ho espresso al Comandante Generale del Sette e al team che ha disarmato il killer è una gratitudine che naturalmente fa il paio con il dolore profondo per ciò che è avvenuto e con la richiesta che noi faremo in tutte le sedi perché la chiarezza sia fatta in modo esemplare, si deve, ripeto, capire chi è il responsabile del fatto che si sia potuto intervenire, introdurre un'arma all'interno di un tribunale. Credo che su questa vicenda debbano parlare gli inquirenti, debbano parlare i responsabili della sicurezza presso il tribunale di Milano e che quindi da parte mia e del Governo ci sia innanzitutto in questo momento il bisogno di ascoltare quelle che saranno le valutazioni degli inquirenti, dei magistrati e di verificare le indagini e assicurare la piena collaborazione da parte di tutti gli organi dello Stato e che quindi nelle prossime ore immagino da Milano ci saranno aggiornamenti per la stampa, non tocca al Capo del Governo, illustrare ciò che è accaduto e quindi nelle prossime ore vi saranno forniti tutti gli aggiornamenti che peraltro già state seguendo con grande professionalità. Se quindi siete d'accordo terminerei con le notizie che erano quelle che dovevano essere date in questa conferenza stampa, voglio però ringraziare il Ministro Angelino Alfano che era già a Milano e il Ministro Andrea Orlando che si è immediatamente recato a Milano, con loro siamo rimasti in contatto assieme alle Forze dell'Ordine, assieme al Prefetto, a tutte le strutture della Polizia di Stato, dei Carabinieri che hanno lavorato su questo difficile evento. Nelle prossime, credo che già adesso il Governo abbia dato la disponibilità a riferire in Parlamento se richiesto sul caso, dopo che le notizie saranno rese pubbliche, quella parte di notizie che potranno essere pubbliche dagli inquirenti. Credo di non avere molto altro per rispetto, direi, di poterla terminare con dei brevissimi appunti. Peraltro domani ci vedremo per presentare il DEF, quindi sarò ancora qui e magari quella potrà essere l'occasione per approfondire nel dettaglio tutto ciò che oggi semplicemente accenniamo. Alla giornata di domani, al Consiglio dei Ministri domani, parteciperà nella veste di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio il Professore Claudio De Vincenti. Dal lunedì prenderà servizio come segretario generale di Palazzo Chigi il Dottor Paolo Aquilanti. Esprimo la gratitudine ai deputati che oggi hanno approvato la legge sul terzo settore, in prima lettura, e ai senatori che hanno approvato in via definitiva la legge sulla custodia cautelare. Aggiungo che il Governo riconferma con grande convinzione la propria fiducia nei vertici di Finmeccanica e segnatamente del Presidente Gianni De Gennaro. Ciò che è accaduto a Genova 14 anni fa ha colpito molti di noi. Chi di noi aveva responsabilità diverse sa che quel dolore è un dolore forte. Nel mio caso personale ho assistito ai pianti nei racconti di alcuni ragazzi del Movimento Scout che erano su e che sono stati incomprensibilmente picchiati. Ho, per motivi personali, un amico di famiglia, carabiniere puntato puliti, che ha rischiato di perdere un occhio al carabiniere ferito. Ricorderete che ci fu un caso di, nelle prime ore addirittura, si parlava di danni gravissimi, per puro caso, a ragazzi di Rignano sull'Arno, del Paese in cui io abitavo. E quindi conosco bene il dolore di quella vicenda anche per motivi personali. Ciò che è accaduto attiene a una pagina nera della storia del nostro Paese. credo che se vogliamo affrontare questa pagina nera guardando al futuro, la cosa più logica da fare sia quella di introdurre il prima possibile, come peraltro da richiesta nella sentenza di Strasburgo, il reato di tortura. E, per puro caso, è oggi in discussione, direi per puro caso, nel senso che i due eventi sono arrivati allineati. E credo che nessuno debba avere paura della introduzione del reato di tortura. Anzi, dobbiamo avere paura del fatto che questo non ci sia nel nostro ordinamento. Infine, voglio dirvi per chiarezza, no, direi di fermarvi. Tutto ciò che ho detto a proposito del passato non ha niente a che vedere con il fatto di avere un giudizio personale su alcune personalità, una delle quali il prefetto De Gennaro è stato nominato presidente di Finmeccanica e confermato dal nostro Governo dopo la vicenda che lo ha riguardato e che ha portato alla soluzione nella vicenda di Genova. Mi piacerebbe che un giorno, quando si parla di responsabilità, si parlasse anche di responsabilità della politica. Ma come capisco, perché tutte le volte è sempre facile attribuire la responsabilità alle forze dell'ordine, alle manifestazioni, ai manifestanti. Talvolta bisognerebbe avere il coraggio anche di attribuire responsabilità alla politica, o meglio che i politici se le assumessero certe responsabilità. Ma è del tutto evidente che nella giornata di oggi mi sembrerebbe assurdo e inutile aprire una discussione su questo. Per rispetto che dobbiamo, a Finmeccanica, ai suoi azionisti, alle persone che credono in questa società, anche sui mercati, voglio dire che il Governo non ha alcun dubbio sulla qualità e la competenza del Presidente De Gennaro e lo diciamo in modo molto chiaro. Sono, come capite, tanti i punti di discussione, li affronteremo nei prossimi giorni, anche verificando ciò che è accaduto nelle scorse ore, permettendo di poter fare tutte le verifiche del caso. Io sto per partire per una breve missione, torno stasera a Malta, dove c'è un appuntamento importante legato a una delle realtà di eccellenza italiane e se ci sono delle domande specifiche volentieri rispondo, altrimenti ci vediamo domani all'appuntamento dopo DEF. Prego. Alessia Ballanti, Virus R2. Come pensate di difendere l'Expo, visto che si è dimostrato che non si riesce a difendere neanche un tribunale? Io trovo, lo dico anche perché questa è una frase che sta tornando in modo costante nei commenti di una parte politica, che ci sono dei momenti, diciamo l'Ecclesiaste dice c'è un tempo per e un tempo per, c'è un tempo per riflettere e un tempo per parlare, c'è un tempo per fare tutto. Quello che è accaduto oggi a Milano è, e lo ripeto, francamente incomprensibile e ci dovranno essere tutte le indagini del caso per verificare che cosa non ha funzionato nel sistema di protezione del tribunale. Ma da qui a tentare di strumentalizzare gli eventi e soprattutto di inserire per l'ennesima volta l'Expo, che è un po' costantemente richiamato come un problema in tutte le circostanze, in tutti i passaggi, penso che ci sia molto tempo, ci sia molta strada. In altri termini, oggi al tribunale di Milano è accaduta una cosa gravissima, è il momento del cordoglio ed è il momento in cui i magistrati possano fare le indagini, capire che cosa è accaduto di sbagliato e chi ha sbagliato nella mancata protezione del tribunale. Da qui a immaginare che questo Paese sia in una sorta di stato di terrore, penso che ce ne voglia, vorrei ricordarvi che proprio quest'oggi la dimostrazione una volta di più della qualità delle nostre forze dell'ordine è arrivata da un intervento che era tutt'altro che facile, perché vi garantisco l'abbiamo seguito in diretta. Tutti continuavano a dire che il killer era sbagliato dentro il tribunale. Avete seguito nelle ore come... In realtà il killer non era in tribunale. I nostri uomini, le nostre donne delle forze dell'ordine non soltanto lo hanno trovato e riconosciuto, e vi garantisco che non era una cosa semplice, ma lo hanno disarmato con un atto di, ripeto, eroismo puro da parte di donne e uomini che lavorano per servire il Paese. Allora, quando si parla di questo sappiamo che abbiamo delle forze dell'ordine che tutelano il Paese, naturalmente è inaccettabile che chi doveva garantire che nel tribunale non si entrasse con l'arma non l'abbia fatto e quindi di conseguenza nelle prossime ore. Queste indagini verificheranno che cosa è accaduto e chi sono i responsabili di questo, ma vorrei invitarvi né da un lato a tentare di strumentalizzare ciò che è accaduto, perché ciò che è accaduto è gravissimo, non c'entra niente l'Expo. È una cosa gravissima che riguarda il Tribunale di Milano, come è accaduto in passato al Tribunale di Reggio Emilia, come è accaduto in altri tribunali. Il nostro impegno è perché non risucceda più, è perché chi ha sbagliato paghi. Prima di arrivare su questo, però, adesso è il momento di far parlare ai magistrati, innanzitutto di piangere le vittime. Credo che sia positiva l'iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura, a cui va la solidarietà e l'affetto del Governo, come pure va all'Avvocatura, perché una vittima appartiene anche all'Avvocatura, come va naturalmente a tutte le famiglie delle persone coinvolte. Vi prego, penso che in certi casi c'è un tempo per e un tempo per. Ecco, abbiamo in questo momento il rispetto che si deve e non tentare di strumentalizzare. Poi naturalmente le forze politiche faranno quello che credono, avranno già iniziato a porre il tema. Non vedo che cosa c'entri l'Expo. Certo è che i sistemi di sicurezza del nostro Paese sono sistemi di sicurezza che si poggiano su donne e uomini capaci al limite dell'eroismo, come abbiamo visto oggi i carabinieri avimercati. Ed è tutto evidente, però, che il controllo non può permettere di avere dei buchi e delle falle come quello che è accaduto all'interno del Tribunale. E io sono il primo, insieme al Sindaco di Milano, al Presidente della Regione, a chiedere che sia fatta finalmente chiarezza, il prima possibile, per capire chi ha sbagliato, come e perché. Perché è del tutto pacifico, fisiologico e normale che se uno entra con una pistola in Tribunale qualcosa non ha funzionato. Vi ringrazio. Io vado a fare la missione che sapete. Ci vediamo domani mattina intorno alle 11.00 per il punto dopo il DEF. Nelle prossime ore, credo da Milano, arriveranno gli aggiornamenti. Immagino degli inquirenti segreteranno in condizioni di poterli offrire e dei ministri interessati che sono in questo momento in Prefettura a Milano. Grazie mille.